Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Antonino Spinalbese ha sganciato una bomba nella notte che ha fatto drizzare le antenne alla produzione del GF VIP. Che cosa sta succedendo all'imprenditore? Mentre alcuni vipponi stanno nell'ombra, Antonino è sempre in prima linea, attivo e critico nei confronti di tutti e questo al pubblico piace. La sua intesa poi con Ginevra Lamborghini, aveva fatto sognare i telespettatori che speravano nella nascita di un amore nella casa. Dopo l'uscita della sorella di Elettra, Spinalbese si è incupito e dopo la diretta di ieri è successo davvero di tutto. Antonino non ha digerito la squalifica di Ginevra. La ragazza è tornata ieri in casa per salutarlo a distanza e rasserenarlo. Nelle ore successive però Spinalbese è apparso tutt'altro che tranquillo ed ha sganciato una bomba incredibile. Le telecamere hanno ripreso una conversazione in giardino che ha lasciato tutti senza parole. Spinalbese ha dichiarato fermamente di essere disposto a rinunciare al suo cachet, pur di riavere la Lamborghini in casa. Sente così tanto la sua mancanza o si tratta di un appello al GF? Pare che l'imprenditore ne abbia parlato con gli autori nel confessionale, ma è logico che non si possa pagare alcuna cifra per annullare la squalifica di un concorrente. La bomba però è stata sganciata e ora sono in molti a pensare che Antonino possa varcare la Porta Rossa ritirandosi, nel caso in cui il suo appello sia ignorato dalla produzione. Che cosa accadrà?